Siamo allo spazio Sploof, il primo laboratorio che stiamo presentando con i ragazzi in messa alla prova. L'idea del laboratorio è quella di avere uno spazio di aggregazione, di socializzazione e di raccontarsi fondamentalmente. E quindi c'è un clima piacevole, si sta bene a fare questa cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.